3,2,1,0 è venuto sul bollone yes the bubbles si però è andata tutta la mozzarella da una parte beh la tagliamo di traverso cosa cazzo cambia? rimane sempre da una parte ma almeno non me la vado tutta io e tu niente almeno così abbiamo metà la mozzarella facciamo la pizza a tasca come si chiama a libretto è contatto? vai la stissi è bruciata guarda addio dai che va bene perchè diceva anche a starter 4 3 2 1 spengo il gas cazzo si è bruciato dai che è buona la spengo? cosa faccio? tutto però